Ciao a tutti i miei canali, benvenuti in questo nuovo video, sono qui oggi per portarvi un nuovo video in concorso Infatti oggi è venerdì 29 ottobre e oggi, domani dopo domani, saremo in concorso a buscate In realtà adesso sono quasi le 10 e io alle 10 e mezza devo essere in università perché alle 11 ho un esame Che è il secondo esame, ieri ho fatto il primo di economia aziendale, invece oggi ce l'ho di matematica, quindi bene E poi subito dopo l'esame vado direttamente a buscate, quindi pranzerò lì e in realtà ho la gara tipo alle 5 e mezza Solo che non avevo voglia di tornare a casa e poi riandare là perché è più vicino dall'università andare là Bola vi saluta E niente, io vado a fare il mio esame e poi non ci sentiamo dopo, ciao Fianz, è dal sacco che non ci sentiamo, non vi ho più detto niente Allora ho fatto l'esame che era di matematica tra l'altro ed è andato abbastanza bene Comunque è un parziale che vale molto poco, quindi bene, però direi mediamente bene Poi sono arrivata a buscate, sono qui con icca, che in teoria dovrebbe mangiare però non mangia Quindi stiamo facendo una passeggiata Sono arrivata qua, ho tranzato, poi mi sono cambiata, mi sono già messa i pantaloni e la maglia da gara con una termica sotto Adesso sta andando la 20 che è quasi finita e poi ripartono dalla 70, arrivano fino alla 115 Io faccio la 110, c'è qua icca che va in esplorazione Madonna, ciao Speriamo che vadano via tutte le ombre che ci sono in campo davanti ai salti perché non sono proprio carine Nella mia gara fortunatamente non siamo troppi a partire e quindi spero che un campo prova non ci sia bordello perché ho visto un po' del campo prova e non mi è piaciuto Io direi che sicca mi saluta e ci sentiamo dopo Ciao amici, buongiorno, sono quasi le sete del mattino È un po' presto mattina quindi io direi che vi racconto un po' dopo Comunque ieri ho fatto la 110 che era Fasi Ieri sera, notte, poi a Buscate non prende il telefono Non prende, non prende internet, non prende niente Quindi è un po' drammatico, mi sono stata lì da mezzogiorno alle sette e mezza di sera E ogni tanto mi arrivavano dei messaggi però non potevo rispondere tanto quindi vabbè Oggi faccio la 5 anni che la 110 era tipo l'ultima stanotte e tutte le altre gare che facevano gli altri erano lontane quindi faccio la 5 anni che vuoi un metro e 15 però vabbè almeno al mattino subito non infastidiamo nessuno Poi vi racconto di ieri, comunque è andata così così Cioè di isterica sono abbastanza felice, di me come al solito no Strano, strano, di solito sono felice Invece, comunque non fa così freddo Paziale La parte più bella è stata quando ieri sera dovevo prendere la macchina per tornare a casa Non mi prendeva internet come tutto il resto della giornata Non sapevo come mettere il navigatore Quindi essenzialmente sono uscita e sono andata un attimo a caso e poi grazie al cielo mi ha cominciato a prendere il telefono e allora ho messo lì Che ti rendevalore? Che ti rendeval 00aret Che ti rendevalore? Che ti rendevalore? Che ti rendevi Grazie a tutti. Ciao ragazzi, io e Ica siamo qua, è stata bravissima, l'ho montato anche bene, quindi sono molto felice. Bene, adesso sì, direi molto meglio del solito, non so come definirlo. Oggi sicuramente compro il video, di ieri mi sa che a questo punto non lo compro, non vale la pena di comprarlo invece oggi. Sono piuttosto soddisfatta, quindi... Perché raspi? Ieri ho cercato di rotolarsi, solo che va sul pile, no era chiuso però sul pile e non aveva i ganci sotto la pancia, quindi ho detto no, non ti puoi rotolare qua nell'erba così. Basta adesso sto mangiando. In realtà l'ho portata perché così si asciuga un po' perché in scuderia fa un po' effetto K e quindi non si asciuga, se no, così fa due passini, si asciuga, poi io torno a casa e poi vi racconto tutto. Buonasera guys, io ho il mio capello pazzo e le mie guanciotte rosse, non so perché ho le guanciotte rosse. Vi volevo raccontare brevemente di ieri oggi, brevemente giuro, giuro, brevemente. Allora, ieri ho fatto la 110, fuori classifica era a Fazi, fino al 5 tutto abbastanza bene, 6 era la gabbia, panico. Io ho pure delle gabbie perché ci sono morta dentro un po' di volte, quindi quando so che c'è la gabbia... c'è un disastro, giro, tipo sbarro gli occhi, non vedo niente, io vado contro la gabbia così e quindi ho fatto casino. Ah no, era cascata la barriera sul 3, ok, però vabbè, mi arrivo sulla gabbia, faccio casino, tipo entro un po' troppo vicina, esco, non so se sono cadute del barriere, non mi ricordo. Poi c'era una spezzata difficile 6 tempi che ovviamente ho cannato perché sono venuti 6 tempi e mezzo e quindi Sireca ha detto che famo, aspettamo, saltamo, non so, e quindi ha scartato. E io, no, c'hai ragione, hai tutta la ragione del mondo, quindi poi sono tornato, ho fatto il 7 e l'8, ho finito. Quindi non sono tanto felice di me, questo è il sunto, istirica direi abbastanza bene. Ovvio quello scarto lì, poverina, ha fatto solo bene perché avrebbe fatto un salto così e saremmo, vabbè, nel senso, va bene lo stesso. Oggi invece sono molto molto felice, ho fatto la 5 anni di precisione, che in teoria erano a 15, però, boh, io non la vedevo piccola come 15, poi non facevo una a 15 da tempo addietro. Poi c'era il fosso, c'era la doppia gabbia, quindi non era proprio il giro più semplice, però è andato veramente, veramente bene. Tutto abbastanza bene, 4-5 dovevo disegnare meglio e rallentare un po' di più, perché o potevo far 6 o potevo far 7, ma alla fine avevano deciso di far 7 e non l'ho organizzata troppo bene. La doppia gabbia è benissimo, spaziale, sono molto felice. L'altra spezzata 7 tempi bene, col fosso. E poi, l'ultima addirittura, in realtà sono arrivata bene, ma il mio istruttore, che mi ha visto bene dalla prospettiva giusta, ha detto che non avevo riequilibrato bene, quindi Serica aveva l'equilibrio là, e quindi la distanza era anche buona, però non aveva, cioè, aveva l'equilibrio là, a tempo di tirarsi su ha sfondato la parte alta del verticale. E da sopra non mi sembrava che l'avesse preso così forte, ma dal video sembra che lo prenda veramente forte, quindi, ops. E poi 5 tempi, l'ultimo. E quindi di oggi sono molto molto soddisfatta, domani facciamo la 115 a Fazi, che è di mattina, e viene anche la Ludo, e basta, poi sono tornata a casa, ho mangiato, e dalle 2 e mezza alle 6 ho fatto un pisolino, chiamalo pisolino, ho dormito un po', e basta, ora sono sveglia da un po', mi sto guardando a After 3, molto carino. Adesso sto a mangiare a bolle e vado a cenare anch'io, e basta, noi ci vediamo domani mattina. Ciao! Buongiorno amici, oggi è domenica, è l'ultimo giorno di vlog e l'ultimo giorno di Chiara. Sono le po' 7 e mezza del mattino, adesso poi verso le 8 esco e vado a prendere Ludo. Oggi, ve l'ho già detto, faccio la 115 che è a Fazi, quindi molto bene, il clima è piuttosto triste. Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Ricordati di iscrivervi al canale e se lo avete ancora fatto, attivatevi la campanella per rompere i prossimi video. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!